La Giunta Comunale di Sansepolcro ha approvato il progetto di videosorveglianza delle aree urbane con tecnologia IP wireless di ultima generazione, che servirà per il controllo del traffico e delle aree di criticità per il monitoraggio del territorio in aree urbane e circostanti. Il progetto si articola in fasi di espansione successive. In questa prima fase, il sistema di videosorveglianza prevede la copertura di una porzione significativa del territorio del centro storico e del territorio comunale attraverso l'installazione di 22 telecamere di cui 16 dette dome, ovvero ruotabili a 360 gradi e 6 fisse. Le telecamere verranno dislocate lungo gli assi di via 20 Settembre, 3 dome e 2 fisse e piazza aberta via Matteotti, museo civico, 2 dome e 2 fisse. Nelle aree circostanti le porte storiche, quindi porta romana, porta del castello, porta del ponte, porta fiorentina, 4 dome in questo caso. Nei principali accessi alla città, ovvero presso le rotonde Fiumicello e 45 buitoni e presso l'ingroscio di via Senesa Retina con via del Prucino, in questo caso le camere saranno 5 del tipo dome. Nelle aree dove insistono i plessi scolastici, buonarroti e campaccio saranno invece installate due telecamere, una doma e una fissa. Oltre a queste aree, le caratteristiche delle videocamere utilizzate consentono di comprire con videosorveglianza anche l'area scolastica di ingresso al plesso di Santa Chiara ed un'ampia zona di via aggiunti, nonché le principali direttrici della città, ovvero la Senesa Retina e la direttrice Tiberina 3bis. La zona San Lazzaro sarà invece coperta dalla rete wireless, ma in questa prima fase non sarà interessata dal posizionamento delle telecamere. Con questo progetto, afferma l'assessore al traffico e polizia municipale, Verninando Mancini, che rientra nel quadro complessivo di riprogrammazione del traffico e della modibilità, si cerca di rendere il più possibile sicura la città, sia attraverso il rispetto delle norme del codice della strada che attraverso il monitoraggio dell'ordine pubblico. Proprio riguardo alla questione videosorveglianza, sembrerebbero emergere marumori tra alcuni membri della maggioranza, per via della poca condivisione del progetto stesso da parte dell'assessore Mancini. A dimostrazione di ciò, gli emendamenti presentati da alcuni consiglieri di centro-destra relativi proprio all'installazione dell'impianto di videosorveglianza. Altro punto politicamente caldo, quello relativo all'opposizione. Molti si chiedono infatti se arriverà un voto favorevole al progetto, condividendo quindi con l'amministrazione l'esigenza di realizzare questo tipo di installazioni nel centro storico Biturgense o se verrà scelta la strada di un voto contrario. Al Consiglio Comunale la risposta.